Ciao a tutti e benvenuti. Ieri ci siamo svegliati in un modo, oggi in un altro. Ieri ci siamo svegliati che Leao lo tenevamo noi, oggi ci siamo svegliati che siamo assediati e che ormai sono piombati, quando i quotidiani usano piombato mi fanno impazzire, piombati gli inglesi su Leao. Quindi basta, non torna più a Milanello ragazzi, è finita, bisogna rassegnarsi. No, ma al di là delle battute, al di là di un po' di sano sorriso senza voler mancare di rispetto al lavoro di nessuno, mancherebbe altro, è abbastanza normale che allo scenario di un quotidiano risponda a un altro scenario di un altro quotidiano, però fatti nuovi non ce ne sono. Si parla del fatto che a Pep Guardiola piace come giocare Leao. Va bene, va bene. Ci sono alcune frasi di Paolo Maldini di Domenica che continuano a fare testo e su cui continuo personalmente a riflettere. Siamo consapevoli che i giocatori vanno pagati per quanto valgono. Quindi è una frase che mi sembra, mi sembra, vada oltre gli abituali tetti di spesa. Legittimi, perché il Milan fa passi secondo le possibilità della propria gamba. Il Milan fa passi consentiti a un club italiano. Non è che il Milan si inventi delle politiche dalla sera alla mattina. Adesso andiamo avanti su questo discorso. Prima lasciatemi ricordare OneFootball con la sua app, con i suoi contenuti, OneFootball è la app di OneFootball, la trovate nella descrizione di questo video. C'è il link, l'app di OneFootball è gratuita, è assolutamente gratuita, l'app di OneFootball vi aspetta. Quindi se Paolo dice siamo consapevoli del valore di Leao e di quanto vada pagato Leao, significa insomma che dice una cosa che non era mai stata detta per altri giocatori che sono andati via a zero, questo ce lo siamo già detti, e dice una cosa importante, che io collego a quando dice Gerry Cardinale è in continuità con Elliot, però ecco su alcune cose anche a lui piace sognare. Chissà che fra queste cose ci sia evidentemente la permanenza di Raffaele Leao al Milan. E poi Paolo ha toccato un punto che se vi ricordate avevo trattato anch'io qui spesso, nel mio piccolo, in questo nostro angolo di chiacchierata. La campagna acquisti del 2019. La campagna acquisti del 2019 che ha generato un certo tipo di orgoglio d'appartenenza, che ha fatto vedere a questi ragazzi arrivati nel 2019. È stata una grande campagna acquisti, sapete quella del 2019. Leao, Rebic, Ben Nasser, lo stesso Krunic, Teo Hernandez, soltanto Leo Duarte non è riuscito, però un'avventura su sei ci sta che non va da buon fine. Però quella campagna acquisti lì del 2019 ragazzi, tanta roba. E sono ancora tutti qui tranne Leo Duarte. Sono ancora tutti qui, sono cresciuti in un certo modo, hanno capito il progetto del club, hanno sviluppato orgoglio d'appartenenza. E quindi è lo stesso club che dice oggi a Ileao e a Ben Nasser, dopo il rinnovo di Krunic, dopo il rinnovo di Teo Hernandez, dopo il rinnovo che era già venuto a suo tempo di Rebic, che dice a Ileao e a Ben Nasser, guardate che qui il progetto continua. State a casa vostra che è meglio. E quindi vedremo quello che succede. Il Chelsea, il Manchester City, per carità, il Manchester City è già una realtà più strutturata del Chelsea. Il Chelsea mi sembra che faccia, non me ne voglia, mi sembra che faccia del mercato un po' umorale, del mercato un po' muscolare, ma non fa un mercato di progetto, di prospettiva, di crescita, insomma fa un mercato così. Spendo perché posso, quindi spendo. Il Manchester City invece ha un allenatore che organizza in un certo modo la squadra. Io non so se Rafa sia già pronto oggi per il calcio di Pep Guardiola, adesso lasciamo stare, ma io ricordo che un anno fa di questi tempi che si era del Paris Saint Germain, a marzo Leao era del Paris Saint Germain, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi che sia Barcellona e Leao è al Milan. Quindi non sto parlando della veridicità della notizia, sto parlando di un nostro giocatore in relazione ad un certo tipo di calcio. Io non so, voglio mancare di rispetto a Rafa se sia già pronto per un calcio come quello di Pep Guardiola. E qui si sposa il concetto con la frase di Paolo Maldini. Rafa sa di dover affrontare ancora alcuni anni di crescita e che è giusto affrontarli al Milan. Ragazzi, questi un po' sono i temi, quindi l'assedio, i club inglesi che piombano su Leao. Sembrava poco dopo Ferragosto che Leao non fosse già più a Milanello, tanto era che era già andato al Chelsea. E invece si allenava totalmente concentrato e totalmente dentro il progetto rosso nero di inizio stagione. Certo, c'è anche Paolo Maldini che dice che la multa e la vicenda Sporting Lisbona lo condizionano, certo. Io questo ve lo avevo detto, tempi non sospetti. Poi è chiaro che se lo dice Paolo ha un ascendente particolare, se lo dico io sono l'aziendalista che difende i giocatori con tutto quello che guadagna. Va bene, però è così ragazzi, è così. Io penso che trovate ogni tanto conferma delle cose che ci diciamo qui. A me fa piacere perché vuol dire che non spendete del tempo inutilmente. Ecco, tutto qua. Voi spendete del tempo gratuitamente, io vi ringrazio per questo, vi sentite dire delle cose a volte giuste, a volte non giuste, a volte mezze e mezze, ma alcune volte, voglio dire alcune volte, non voglio dire spesso alcune volte, trovate che quello che ci diciamo qui viene poi sostenuto a livelli più ampi, a livelli più importanti, a livelli più generali del nostro calcio. Ragazzi, Empoli Minas si gioca sabato sera, iniziamo a alzare la guardia perché qua i nostri nazionali sono ancora un po' tutti per aria, siamo felici che l'Italia sia arrivata prima in Nations League, sono felice che Pobega sia entrato anche ieri a Budapest, mi ritengo un tifoso della nazionale, giusto essere tifosi della nazionale, non giocheremo i mondiali, ma giocheremo le Final Four di Nations League, avessi detto, dirà qualcuno di voi, io invece me le tengo, scusate me le tengo, me le tengo perché sono il nostro prossimo momento importante per le nazionali perché poi comincia a batterti eventualmente a alzare un trofeo, poi vedi che sei contento, certo, senza caroselli per strade ma vedrai che sei contento. Adesso bisogna iniziare a concentrarsi su Empoli Minam perché l'Empoli ha avuto anche le Empoli, i suoi nazionali, i suoi impegni, però l'Empoli ha avuto modo di focalizzarsi di più sulla parità di sabato sera, tant'è che in tempi non sospetti Stefano Pioli prima di questo splendido weekend che ha fatto con tutto lo staff, bellissimo, a dimostrazione dell'aria granitica e salubre che si respira dentro Milanello, l'aveva detto, ragazzi, arriveranno i nazionali due o tre giorni prima, più due che tre, della sfida con l'Empoli per cui per noi sarà difficile prepararla, me lo diceva sempre anche Carlo Ancelotti onestamente. Quando giocavamo il sabato sera dopo la pausa delle nazionali, occhio a sta partita, occhio a sta partita, mi ricordo me lo disse prima di un Milan-Bologna 2-1 del settembre 2003, infatti la partita era 1-1 e segniamo negli ultimi dieci minuti, quindi sarà dura e cominciamo a concentrarci. A più tardi ragazzi.